Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi piccolissime informazioni di servizio prima di cominciare questo video, di cui tra l'altro ho finito di girarlo adesso io sono particolarmente vira e l'ho fatto molto lungo apposta, spero vi piaccia, insomma che la lunghezza sia più lunga e se vi piace ricordate sempre di mostrarmelo con un like non volevo dirvi questo, comunque volevo dirvi che da questa settimana cambieranno i giorni di uscita del video rimarrà il lunedì, cioè come stasera il lunedì alle 19.30 ma il video del venerdì sarà anticipato al giovedì questa cosa è definitiva, almeno semi-definitiva, durerà un po' di mesi quindi adesso aspettatevi nuovi video miei il lunedì e il giovedì alle 19.30 ho un po' spiegato il perché su Instagram, un po' i miei ragionamenti però insomma, magari ne parlerò in un video chiacchiere intanto sappiate questa cosa che usciranno il lunedì e il giovedì ditemi se a voi questo cambiamento anche piace, perché no? e godetevi il video buonasera 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 le do il benvenuto il nostro accetto relax ha prenotato una sessione ok controllo subito più 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 이완 allora, 19.30, 19.30 ok, allora vedo chi ha prenotato per una sessione in whispering per questo parlo a bassa voce, d'accordo quindi giusto e poi massaggio testa e viso d'accordo, molto bene allora, del resto qualche altra esigenza? ok, mi dirà poi, lei in realtà durante il corso del trattamento se preferisce qualcosa e le farò scegliere certi prodotti comunque, le do il benvenuto è la prima volta che viene qui adesso è l'amica di Claudia avete fatto una stessia? bello allora, adesso le chiedo intanto se vuole un dolcetto abbiamo fatto dei muffin alla zucca che... no magari dopo, guardi che comunque puoi chiedermelo in quel momento un bicchiere d'acqua può esserle gradito? no non adesso magari dopo, mi raccomando non esiti a chiedermelo per rendere l'atmosfera più rilassante pensavo di usare per questo trattamento questa candela questa candela si chiama Ujun Glow stile anche spero le piaccia anche il camion spero non faccio troppo caldo perché questa stufa veramente scalda tanto tanto per l'altro è finito ecco l'altro è l'altro è e io si le consiglio questa per ogni volta anche se vuole non è questo andate a prendere qualcosa per accenderla e arrivo subito eccoci qua e pian piano in modo veramente delicato e naturale andrà a profumare tutta la sala la mettiamo lì bella bene allora adesso le dispiace un attimo se mi avvicino e esamino un attimo la sua pelle e di cui secondo me ha bisogno ok sono abbastanza delicata non si preoccupi non lavate le mani d'accordo allora io procederei le ricordo che questa è una spa ma non sarà un trattamento estetico ecco comunque faremo una pulizia dei trattamenti che faranno bene al suo viso insomma non è una pulizia del viso o espuliazione forte eccetera ok lo scoperta è quello di far star meglio lei e soprattutto di rilassarla bene le state rilassando e sono contentissima allora prima di fare qualsiasi cosa io le ovviamente voglio fissare i capelli poi quando andremo a fare il massaggio alla testa le toglieremo però intanto insomma è meglio fissare i capelli all'indietro uso queste forcine che mi piacciono tantissimo sono belle molto elegante devo dire bene e anche le altre due una di qua e l'altra di qua cominciamo subito e comincerei con una doppia detergenza cominciamo con la detergenza oleosa 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 in questo modo le posso togliere il trucco si scioglierà con l'olio e dopo passeremo invece a una detergenza oleosa un detergenza ma normale scusa ok allora cosa adesso usare per lei ok può stare del tè del tu ok può stare anche del tè non lo vuoi ok 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 allora io ho deciso fra questo è un duo di Charlotte di Purim ho deciso di usare questo e forse è meglio per la sua pelle questo è un prodottino di Guvi si chiama Oily You è un olio gel stroccante è nuovo, l'abbiamo appena ricomprato vado sul suo viso vado a massaggiare si vede la consistenza vado anche qui sul collo sotto al viso dietro le orecchie ecco qua sul collo tutto il viso non voglio lasciare nulla scoperto molto bene bene adesso con una spugnetta bagnata una spugnetta un dischetto riutilizzabile bagnato vado a togliere il prodotto il prodotto con un movimento maturente tutto rilassati goditi questo trattamento goditi i prevedini se ti stanno avvenendo si va bene allora l'ho messo anche l'ho messo anche l'orecchie qui sotto qui sotto qui sotto adesso visto che comunque ha già il viso umido da questa serve che dopo semplicemente gireremo per sciacquare l'altra parte andiamo con il detergente diciamo un po' più schiumoso e questa volta userò userò questo prodottino di Lancome questo è un prodotto con miele che aveva appunto risciacquato abbastanza idratante e ancora lasciato la pelle particolarmente secca ecco qua ecco qua ok e andiamo con la seconda detergenza bene sì sì questo proprio forma una bella schiuma è molto rilassante anche secondo me dettaggersi il viso con un prodotto che fa molta schiuma anche le mousse mi piacciono tanto e ho tante e ho tante in realtà anche di mousse però per lei ci sono per questo prodotto e ok ok adesso adesso vado vado a farle una passata con un dispositivo che le detergerà la pelle ancora meglio in particolare noi usiamo il foreo sono sciacquate le mani e ora prendo il foreo non so se conosce questo attrezzino è veramente molto molto utile per la deterazione quotidiana ma anche per applicare ad esempio questo non serve una maschera cambia cambia anche il modo in cui diciamo vibra quindi senta va bene tra il prodotto molto diverso dura circa un minuto questo trattamento bene tra l'altro è un po' meraviglioso direi che possiamo passare alle maschere ai trattamenti e poi mentre aspettiamo che questi facciano effetto andiamo a prenderci un attimo cura dei capelli e della testa bene 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 non Grazie. Mi stavo scarpando, il tonico, questo è molto buono, è la Pixi, in formato mini, ha la vitamina D sui, questo è il pianto, io il tonico lo applico appunto, qui schietto, io scripito di l'izzabile. Sì Mi è stato poco, ha un odore agromato molto molto piacevole e vado ad applicarlo sul tuo viso anche diciamo tamponarlo ricordati che quando vuoi puoi chiedermi dell'acqua, il muffin ok, adesso passiamo veramente ai trattamenti allora, io per te ho preso questa maschera di Allopody che si chiama Rose Refine è una maschera che anche io faccio spesso ed è una maschera diciamo all'agilla che però devo dire non secca così tanto e voglio metterti in realtà solo in tutti i punti, quindi soprattutto la fronte, il naso e questi punti qui della mandibola e il resto lo lasciamo libero poi vado a metterti una maschera occhi e uno scrub labbra tra l'altro questa maschera ha un profumo di tè nero io non so perché uno non dovrebbe profumare tè nero ciò che sento palesimente è proprio tè nero il tè inglese semplice quello più si della Linton che sono queste qui d'accordo e allora ne prendo un po' e vado nelle zone che appunto ho detto quindi la dibola dall'altra parte lo senti anche dai il profumo ecco no perché sennò ho un po' solo pronte quindi penso sembra di essere strano io ok il naso bellissimo questo che faccio che faccio il naso questo che faccio il naso è fatto bene? lasciamo agire intanto l'occhio e labbra questo che ti vado ad applicare è un contorno occhino di Charlotte Tilbury che in realtà è molto 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 lento consistente per le pelle diciamo che hanno bisogno di tutta questa esatazione normalmente tutti i giorni per il tuo tipo di contorno occhi e va benissimo è perfetta come maschera tra l'altro il bag tra l'altro il bag cioè guarda qua meraviglioso ecco qua ecco qua vado a incendermi proprio anche su questa zona sì anche l'altro poi mi sono dimenticata di dirti che voglio andarti ad applicare anche dell'olio di ricino su vi faccio vedere qual è questo questo è biologico si chiama anche castor oil e vado ad applicartelo sulle sopracciglia sulle sopracciglia eccoci qua sulle ciglia per le mie occhi e l'altro bene te l'ho applicato perchè mi hai detto che tu puoi semplicemente vai a casa quindi...puoi tenerlo per tutta la notte questo è una cosa che è bellissima però te lo consiglio tanto come trattamento anche da fare tutti i giorni infine sulle labbra vado ad usare questo scrub vi devo dirti è anche estremamente idratante ci trovo veramente bene mi lascio proprio la pelle delle labbra idratata e dettosa diciamo così vado ad applicartelo sulle labbra in questo modo ok 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 e ti faccio anche proprio se non c'è la pressione ok d'accordo certo noi vediamo anche questi prodotti se è poi interessata a qualcosa in particolare ok passiamo passiamo ai capelli voglio applicarti tanto appunto che tutto fa effetto voglio applicarti questo olio della gerastase olio sull'immatrice molti uso olio di bellezza molti uso per tutti i tipi di pelle questo ne va messo poco 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 sulle punte ed ha un effetto meraviglioso meraviglioso guarda quanto ne metto proprio un pump e vado a metterlo sulle due punte e anche dietro non ho bisogno di esagerare però ce n'è veramente poco vedi quasi non si vede neanche il regresso dell'ol tanto ce n'è poco quindi veramente questo serve particolarmente e se appunto le punte secche le punte anche magari che fanno un po' dove pare a loro questo lì li distriche e anche proprio li aiuta a stare in piega senza senza appesantirle come tanti uguali fanno invece bisogna però stare attentamente all'appunto sulle punte guarda guarda si mette si te l'ho messo proprio così vedi nel mezzo di stricare così in realtà adesso non ho particolarmente bisogno però illumina sempre molto i capelli dopo lo shampoo è un must ok adesso vado a farti invece un bel massaggio la testa è rilassante spostati un po' come qua ti sta addormentando beh ci sta alcuni alcuni clienti si addormentano durante il trattamento però non c'è problema questo questa sessione di relax serve anche un po' per ricaricare le energie per prendere del tempo per la nostra persona nell'anche dedicarsi proprio del bene quindi ci si può fare del bene attraverso il cibo anche attraverso i trattamenti perché il benessere fisico è importante tanto quanto il benessere mentale è assolutamente ok se la maschera è quasi quasi asciutta non vorrei andrò a togliere non vorrei anche ma sai che mi hanno sempre detto che ero particolarmente brava a fare i grattini la mia persona, forse è per questo che è giusto fare questo lavoro alla fine si era particolarmente fare i grattini sulla schiena, sulla testa mi inventavo nuovi modi per far venire i prevedini quindi si ma dall'infanzia è incredibile diciamo che ho potuto sfruttare un talento naturale ok molto bene adesso direi che possiamo rimuovere le maschere lo scrub te lo rimuovo e la maschera occhi si è è stata assorbita dai tuoi occhi dal tuo contorno occhi quindi adesso poi passiamo a siro e crema idratante e poi abbiamo finito questa sessione ok andiamo a rimuovere sentirà bene tirare la colina ok 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 bene crema il latte del viso il lato il lato il lato bene 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 allora come si ero io vanno a farti scegliere fra due allora questo è dell'Abiotherm acqua super concentrato sono tutti e due veramente molto buoni e diciamo che si è idratante e rimpolpante questo invece è un siero specifico con peptidi vediamo un aspetto leggermente geloso e questo aiuta a ringiovanire la pelle e diciamo di mantenere la sua strutta quale vuoi usare? proviamo questo questo d'accordo mettiamo via ora andiamo a a mettere sia il siro che la crema con questo pennello perché io ormai ho le mani con troppi prodotti andrei veramente a fare un mischione che non va bene quindi faccio due pump abbastanza abbastanza globoso vedi? e vado ad applicarlo sul tuo viso molto bene non dimentico ancora e bene bene e bene prima di applicarti la crema ti applico questo balsamo labbra della Dior questo è veramente molto 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 buono veramente buonissimissimo mi ci trovo benissimo super idratante sia per il giorno sia per la notte veramente un prodotto molto valido e tra l'altro non un pack il pack tra l'altro è meraviglioso mi ho veramente innamorato follemente ci siamo siamo arrivati ci siamo siamo arrivati all'ultimo step che è la crema idratante anche questa della Dior sono molto 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 buoni è una crema abbastanza leggera perchè non voglio pesare niente la pelle troppo come vedi ho utilizzato veramente dei prodotti molto molto leggeri perchè non è la pelle secca di certo ok vado a prelevarne un pochino non serve tanto e anche qui non serve è un ruolo un ruolo e anche qui non serve abbiamo un ruolo è un ruolo è un ruolo bene bene ciò che mi piace del mio lavoro è che mi rilassa veramente tanto, mi rilassa far rilassare i miei clienti mi rilassa molto tranquilla e sono veramente contenta io ti auguro una splendida 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 buona cena anche se non hai ancora cenato e spero spero davvero di rivederti prestissimo 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 alla prossima alla prossima ciao 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 ciao